Mi trovo in piazza Bettolo a Taranto, purtroppo l'ennesimo atto di vandalismo. Ecco, guardate la statuetta in cima alla fontana con quale forza è stata proprio spezzata e staccata. Quell'immagine rappresenta un uomo, non sono un esperto di storia dell'arte in questo ambito, però è stata proprio questa statua che stava nella parte superiore spezzata e staccata. La parte superiore è stata proprio spaccata, vedete lì sopra c'è il pezzo mancante, il pezzo rotto è stato messo nella conchiglia inferiore e un altro pezzo l'ho trovato qui, provvedo a metterlo qui magari per preservarlo da eventuali atti distruttivi. Anzi, il pezzo lo metto qui sopra, così potrà essere messo in maggiore sicurezza nell'attesa che intervenga magari una ditta incaricata dal comune per poter operare una sorta di restauro. Guardate cosa è accaduto qui, è stato qui sopra, guardate la parte rotta, spaccata e i resti sono qui. Oltre a disegni con pennarello e quant'altro sui cavalli, ma la cosa grave è il danno che è stato creato lì. Io penso che un pronto intervento possa almeno salvaguardare un po' la parte superiore. L'aspetto grave, anche qui un'altra parte che sta crollando, una zona completamente abbandonata, abbandonata dall'amministrazione comunale e devo dire anche abbandonata dalle forze dell'ordine, perché ci sono state numerose segnalazioni. Ecco qui c'è un altro pezzo, sto cercando di fare, di voler salvare il salvabile, perché credetemi, mi dispiace vedere un'opera distrutta. Almeno così possiamo ricostruire questi pezzi che sono stati rotti, vedete la parte circolare della conchiglia, della conca superiore, li sto mettendo qui affinché, ripeto, chi arriva, chi è preposto alla riparazione, possa almeno ricomporre la parte rotta. Guardate, una fontana che non funziona più, completamente rotta e soprattutto di sera, di notte avviene di tutto di più. Questa diventa una zona meta di teppisti, di depravati, rumori e atti vandalici, atti distruttivi. Mi rivolgo alle forze dell'ordine. Qui la zona deve essere, ecco un altro pezzo ancora, la zona deve essere assolutamente presidiata con continue, io le chiamo incursioni, tra virgolette, da parte delle forze dell'ordine per andare a prendere con le mani nella marmellata questi malfattori, perché di depravati, di malfattori si tratta. E allora se non si riesce diversamente, a questo punto mettiamo le telecamere fisse, mettiamo le telecamere fisse, tanto si sa che ormai questa è una zona ad alta intensità delinquenziale, passatemi questa espressione, quindi in questo modo possiamo beccare chi compie atti vandalici, chi attenta alla quiete pubblica. Piazza Bettolo è diventata terra di nessuno, guardate qui distrutte le coperture di questi tombini, guardate qualcosa di incredibile, il vandalismo è imperante. Sono senza parole, ci vuole il pugno di ferro, a questa gente bisogna in senso metaforico spezzare le mani, spezzare le mani, non c'è da fare altro. Non è possibile distruggere una piazza e non è possibile che le istituzioni non facciano tutto quello che va fatto per evitare questi scempi. Allora, se non è possibile avere i continui controlli delle forze dell'ordine, mettiamo le telecamere fisse, perché qui parliamo di decine, 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 decine di atti vandalici, di atti teppistici, oltre al fatto che qui sono stati anche fatti degli interventi, traffico di droga e quant'altro, quindi voglio dire, la situazione è molto ma molto pericolosa, occorrono le telecamere. E' allora un'azione sinergica, congiunta da parte di Polizia Locale, quindi da ente comune, con gli altri organi, gli altri soggetti deputati delle forze dell'ordine.